Quinto trofeo città di Tortoreto, una gara podistica regionale di 10 km ma anche una passeggiata paesaggistica non competitiva di circa 5 km. Il tutto organizzato dalla società polisportiva di Tortoreto Adriatico Team. Accanto a me ho il presidente, buonasera, complimenti. Grazie, grazie a voi, complimenti. Noi organizziamo per la seconda volta, questo è il secondo anno che abbiamo l'onore di organizzare questo evento. Si tratta di una gara podistica e una passeggiata paesaggistica sulle colline tortoretane. La gara podistica è di 10 km, il percorso parte da Contrada Cavatassi dove in collaborazione con lo Zodiaco, che è un circolo culturale del posto, abbiamo organizzato questo evento. Si inizia il percorso che va fino al borgo, quindi il paese Tortoreto Alto, poi c'è il giro di Boa al borgo e si torna indietro per fare di nuovo l'arrivo su Cavatassi dove ci sarà un ristoro e le pregnazioni del caso. Patrocinio del comune di Tortoreto, della provincia di Teramo, del CONI e della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Sì, certo, Federazione Italiana di Atletica Leggera. Inoltre questa gara fa parte di due circuiti, del circuito Corri Master della FIDAL e del circuito Piccini e Petruzzi. Il circuito Piccini e Petruzzi è un circuito che comprende diverse società sportive e polisportive, podistiche in questo caso, delle province di Ascoli e Teramo. Quindi si svolgono diverse gare sul territorio tra Ascoli e Teramo per una classifica finale. Volevo lanciare un messaggio perché in questo frangente del mese di ottobre c'è una striscia positiva di gare Teramane. Inizia il 7 ottobre con la ventidiovesima maratonina colognese e poi il 14 ottobre la nostra, che è il quinto trofeo città di Tortoreto, Memorial Paolo e Ustini. E poi c'è il 21 ottobre a Bellante Paese un'altra maratonina, tutte di 10 chilometri. Quindi è una striscia, è un filotto Teramano per cui ci teniamo che ci sia un riscontro positivo di paesani ma così come di Ascolani. E sì, tutti pronti ai blocchi di partenza ma dicevamo è anche un memorial, un memorial dedicato a Paolo Ustini. Il memorial è dedicato a Paolo Ustini che è un ragazzo di Tortoreto che purtroppo è scomparso qualche anno fa. Era uno sportivo, sportivo a tutto tondo nel senso che lui non solo, era sportivo lui che correva su tutti i percorsi di Tortoreto ma si occupava di molte strutture sportive sul territorio di Tortoreto. Per cui l'idea è nata, non è stata mia ma di chi mi ha preceduto, di intitolare a lui questo trofeo. Ovviamente ci saranno anche dei punti di ristoro lungo il percorso. Ci sono tre punti di ristoro lungo il percorso più quello finale. Quello finale è un ristoro più corposo e grazie alle signore del circolo lo zodiaco sarà gradito di dolce, salato e non solo. Chi può partecipare Open? Possono partecipare gli iscritti ad una società sportiva o gli iscritti con la Rancard. Bisogna avere il certificato medico adatto all'agonismo oppure può partecipare liberamente alla passeggiata con il certificato medico normale, medico di famiglia. Allora vinca il migliore, 14 ottobre, quinto trofeo Città di Tortoreto. 14 ottobre, quinto trofeo Città di Tortoreto. Un ultimo inciso, avremo un testimone. L'anno scorso abbiamo avuto come testimone a Giorgio Claccaterra, quest'anno avremo come testimone a Dennis Cursi. Dennis Cursi è un campione delle nostre zone di San Mietto del Tronto, è stato nazionale di maratona e dall'anno scorso ha abbandonato il lagonismo per dedicarsi al circuito amatoriale e sarà tra i nostri concorrenti.